Questo è un bel quartiere, una bella zona e non avrei mai pensato sinceramente che alle 5 del pomeriggio venissero a far visita proprio qua. Via Chianni, una strada che attraversa una zona residenziale di villette e appartamenti a Casiera, un quartiere tranquillo finito nel pomeriggio di sabato nel mirino dei ladri, a raccontare quanto accaduto una residente che abita nella casa accanto a quella violata dai malviventi. Ho sentito dei rumori molto molto forti, molto importanti che ho interpretato come dei lavori di ristrutturazione. D'altra parte il sabato pomeriggio più o meno tutti a casa si danno da fare in questo senso. Tra l'altro stavo guardando la televisione e ho detto vabbè dai non sento neanche, spengo, ho spento la televisione. In realtà quel rumore così forte è opera dei ladri che stanno scardinando la porta finestra della cucina e da qui che sono entrati in cerca di denaro e preziosi mettendo a soquadro le stanze. Solo quando i padroni di casa rientrano si accorgono dell'accaduto. Mi è dispiaciuto parecchio perché io e la mia vicina di casa siamo molto, siamo non solo vicine di casa ma siamo anche amiche. Magari non so scrivere un messaggio anche così stupidamente. Ah stai facendo lavori così magari mi avrebbe detto no guarda in questo momento non ci sono. Avrei potuto tra virgolette svegliarmi. Non si fa troppo caso a certe cose quando invece uno dovrebbe stare attento. Qualche mese fa i malviventi sempre in via Chiani avevano preso di mira alcune auto parcheggiati in un caso addirittura smontando la parte anteriore di una vettura non prima di aver lasciato il quartiere al buio staccando la corrente per lavorare indisturbati. Casier dunque è solo l'ultimo comune della marca colpito dai furti nei giorni scorsi. come testimoniano i post sulla pagina Facebook di Furti in Corso era toccato a Biancade per ben due volte in pochi giorni e a Codognè qui malviventi in azione con i proprietari presenti in casa.